buongiorno allora è tardi perché sto alle 10 e mezza però purtroppo io non riesco a registrare prima so presa da troppe cose quindi non c'è non ce la faccio proprio allora sono sparita per un po di giorni e scusate ma ho avuto un po un periodo di quelli giù non ero di ottimo umore e quindi non mi sembrava il caso di mettermi a girare un vlog o comunque altri video sono stata attiva comunque su instagram infatti ieri vi ho messo un post su delle cosine che ho acquistato da new diva quindi se siete curiosi volete vedere perché ho acquistato anche un vestitino molto molto carino che metterò questa natale e andatelo a vedere vi lascio comunque sempre qui il il mio il mio instagram e cercherò di sistemare il link che vi ho lasciato nel nel box info del mio instagram perché una ragazza mi ha detto che non funziona comunque ragazzi non è difficile cioè se uno vuole le cose le trova ecco per il resto tutto uguale e niente in ordine non è successo niente di che abbiamo in capovolto un po il soggiorno ho girato il divano è uno dei due divani che ho girato abbiamo messo il mobile del dell'angolo bar però non essendo ancora totalmente finito non non ve lo non ve lo voglio far vedere ecco questa verità in più sto aspettando ancora il calendario dell'avvento di aurora perché perché io ne avevo ordinato uno che però si è perso ultimamente mi stanno a perdere un sacco dei pacchi si è perso e quindi ne ho dovuto ordinare un altro quest'altro dovrebbe arrivare oggi quindi scusate se faccio dei vestiti strani con la bocca ma ho mangiato le noci pecan e me le sento praticamente in tutti i denti comunque però oggi dovrebbe arrivare incrociate le dita per me per per questo calendario dell'avvento se no non so veramente come fare perché ce l'abbiamo tutti tranne lei praticamente una sfiga assurda e non ho ancora tirato fuori le cose di natale infatti vedete che c'ho ancora un scatolone di roba perché perché fondamentalmente si stanno tutti quanti addobbando per natale però io devo ancora vedere un po di cosine per fare il presepe quindi devo un attimo lucky sozzo che se fanno i ultimi così e devo ancora devo ancora guardare bene no devo ancora guardare bene le cose di natale che ho di sotto quindi diciamo che il lavoro è lungo e niente quindi non non so se questo fine settimana riusciremo a farlo perché comunque abbiamo un po di cose da fare vediamo se domenica pomeriggio samuele c'ha voglia però mai dire mai nella vita e niente stamattina vado a sistemare le mie unghie perché praticamente le mie unghie vedete che io non ho più messo il semi permanente perché praticamente non non crescono bloccate non so che cosa è successo non lo so fatto sta che mi si sono bloccate le mesi a bloccata la crescita delle unghie e allora ieri parlando con la mia estetista le ho chiesto un po un consiglio e lei mi ha detto di fare un trattamento per ricosare le unghie per rigenerare le unghie e poi mi farà lei la ricostruzione quindi ottimo e niente oggi è mercoledì aurora oggi non ha carate c'è la venerdì me devo ricordare perché se non ne sono capace di portarcela non c'è nessuno e quindi niente quindi oggi sarà una giornata tranquilla e non succederà niente di che allora ragazze sono in macchina sono stata da dall'estetista per fare il trattamento la cheratina le mie unghie perché come potete notare le mie unghie sono cortissime ma non perché io me ne mangio perché non ho problemi a dire che mangio le unghie ma stavolta non sono corte perché me ne mangio ma perché non mi sono proprio cresciute e non so che cavolo è successo alle mie unghie fatto sa che sono due mesi e mezzo che non mi crescono adesso mi so ricordare che devo mettere pure gli anelli e niente non mi crescevano più e non so per quale motivo allora parlando con lei lei mi ha detto di fare due trattamenti con la cheratina questo di oggi più un altro fra 15 giorni e poi provare a fare il semipermanente lei sulla ricostruzione non è molto convinta però ora vediamo un attimo dipende pure come vanno le mie unghie perché se poi crescono che non so forti no cioè non le vado comunque a rovinare e niente adesso sto aspettando che escano i bambini da scuola sono in macchina questo è il come dire il il dramma di noi mamme che arriviamo praticamente un quarto d'ora prima per prendere parcheggio per aspettare i figli che escono da scuola perché è un disastro e va bene niente ci sentiamo più tardi a quando sono a casa allora eccoci qua pausa gizeng perché io non bevo caffè e niente abbiamo mangiato abbiamo fatto vedere prima che abbiamo mangiato la pasta ragù e però l'ho finito quindi mo' mi tocca rifarlo anche perché Alessandro per chi non lo sapesse ma penso quasi nessuno solamente i miei amici Alessandro mangia solamente la pasta ragù e la pasta patè salsiccia la pasta al tonno quindi io devo rimanere in queste tre altrimenti lui non mi pranza mai poi finito il caffè ovviamente cominciamo un'altra volta con il casino il casino va bene mamma mia devo dirvi la verità allora stamattina la mia amica mi fa va ma che prima un'altra volta all'estetista meno male non ci volevi mai andare ha ragione nel senso che io sono sempre stata un po restia ad andare da un estetista sempre fatto da me perché un po comunque mi ha sempre appassionato mi è sempre piaciuto sperimentare nuovi prodotti eccetera il mio canale è nato con questo modo chi se lo ricorda dall'inizio sa benissimo di cosa sto parlando io ho iniziato così ho iniziato facendo video di review di prodotti video di make up insomma ho iniziato in questo modo poi piano piano comunque come si è evoluto il mondo di youtube si sono evoluti anche i miei video e sono subentrati blog crescendo però perché comunque già già ero già ero sì già ero già ero qua comunque quindi ho sempre fatto da me diciamo la verità e non mi sono mai totalmente affidata a un estetista per fare dei trattamenti quando poi ho parlato con lei lei mi ha fatto vedere anche i risultati mi ha detto come si trovava eccetera ok ho appoggiato perché sennò mi faceva male il braccio lei praticamente mi ha mi ha raccontato un po mi ha spiegato tutto quanto e devo dire la verità mi sono incuriosita e allora sono andata a fare questa consulenza a parte che lei la conoscevo già perché comunque stanno in un paese ti conosci un po tutti tanto bevo se no mi si fredda io la conoscevo già lei quindi non è stata propriamente una novità parlare con lei già sapevo comunque che lavori facesse e tutto quanto quando mi ha vista diciamo c'è stato un feeling immediato perché lei senza neanche farmi dire una parola c'è proprio barcata la porta mi ha visto e mi ha detto subito quello che quello che io le sarei andata a chiedere dopo mi ha spiegato per bene tutto quanto e devo dire la verità mi sono proprio decisa di affidarmi poi sto passando un periodo un po di cambiamento di cambiamento non solamente fisico nel senso che non è solamente una questione di dimagrimento ma un cambiamento proprio a livello mentale di accettazione di alcune cose proprio un vero e proprio percorso e mi è piaciuto questo mi è piaciuto il suo lavoro perché lei unisce proprio queste due cose unisce il fattore estetico con il fattore rilassamento centra centrarsi su se stessi essere quell'egoista sano come lo dico io che io non riesco ad essere egoista perché per mio carattere sono particolarmente non sono per niente egoista sono una che pensa prima agli altri e poi se stesse e questo mi ha portato ad avere un po di crisi però diciamo che quest'anno voglio dedicarmi a me me lo sono proprio imposta anche per il bene della mia famiglia quindi mi sono affidata e devo dire che ho fatto bene mi sto trovando molto bene il disco ecco il discorso iniziale era questo e la mia amica mi ha detto vai più da lei che stare a casa effettivamente è vero perché l'ho preso un po come un vero e proprio una vera e propria terapia del benessere passatemi il termine quindi mi trovo bene molto bene e stamattina appunto sono andata perché io volevo fare la ricostruzione alle unghie ma lei appena mi ha visto le unghie mi ha detto ma tu facevi il semi permanente a casa detto sì è ma te sei accorta che le due unghie so finissime che tra un po non c'è più si devono rinforzare mi ha fatto questo trattamento alla geratina stamattina e poi come vi ho detto devo rifarlo un'altra volta e poi mi farà il semi permanente o la ricostruzione vediamo un attimo come reagiscono le mie unghie però effettivamente è vero mi sono accorta che ho cambiato proprio il mio modo di vedere perché mi sono resa conto che da soli non ce la fai perché sei preso da tante cose sei preso da tanti impegni da tanti pensieri e il fatto di uscire di casa è un po come la palestra uscire di casa e entrare dentro una palestra o entrare dentro un centro estetico per farti fare un trattamento ti dà proprio la cosa che tu ti stai dedicando a te stessa in quel momento quindi in quel momento sei tu l'oggetto della cura e questo mi fa molto piacere questo mi serviva tantissimo è il motivo per cui io in questi giorni passati voi forse non ve ne siete accorte ma io ho avuto un po di momenti bui comunque ora non sto qui a raccontarvi cioè non voglio non voglio raccontare sta cosa perché comunque voglio che il canale rimanga comunque fericolo non voglio che diventa una cosa pesante però una cosa la voglio dire se avete sentite la necessità di centrarvi di centrare la vostra vita su voi stessi e non sugli altri dedicatevi un'ora almeno dall'estetista che sia per farvi le unghie che sia per farvi un massaggio rilassante bellissimo mai fatto l'altro giorno l'ho fatto fatto una dormita che non avete idea un massaggio rilassante un massaggio anticellulite quello che volete dedicatevi un'ora quando sentite il bisogno a voi stessi perché ce lo meritiamo ce lo meritiamo perché non c'è stiamo sempre di corsa soprattutto noi donne stiamo sempre di corsa sempre a pensare a tutto e alla fine ci perdiamo noi io mi ero persa io mi ero persa e questa cosa il fatto di dedicarmi a me stessa mi ha ricentrata adesso sto una favola più credo anche molto più in me stessa e quindi fatelo fatelo perché vi fa bene adesso prendo il caffè perché ormai sarà pure freddato logicamente per parlare e niente e poi vado a fare fare i compiti e bimbi perché li devono fare poi ce ne hanno pure tanti quindi come al solito scusate mi sono un po fissata e niente a dopo allora ragazzi rieccoci qua allora ormai è notte come potete vedere dal fatto che c'è la luce accesa e non andrò in palestra stasera perché fondamentalmente non c'ho tanta voglia poi ieri ho fatto pilates e abbiamo fatto un lavoro molto forte sui glutei quindi mi fanno ancora malissimo le gambe i muscoli delle gambe e i glutei quindi non non ci andrò e non fate caso questa questa deve essere elevata non ci sarà e quindi niente quindi sto a casa sto aspettando una mia amica che gli ho stampato una cosa per il figlio per domani per scuola e niente adesso aurora di là sta finendo i compiti perché ragazzi noi abbiamo dei seri problemi con i problemi di matematica sembrano scioglilingua ma è così e alessandro invece sta guardando i cartoni ma dovrebbe finire una scheda di tecnologia che tanto non mi sta sentendo prova non è per domani quindi va bene così può pure lascia perde vediamo stasera se col padre c'ha più voglia e niente io adesso faccio uno spuntino ma ino perché sono le cinque tre quarti faccio uno spuntino e e me riposo un attimo perché non ne posso più si stanca ma non è che sto stanca penso proprio stanca stanca che a me vorrei mettere nel letto proprio quei momenti di stanchezza e niente poi vi faccio vedere la cena e vi do la buonanotte quello che è vi saluto perché è inutile che vi faccia vedere quello che succederà a Buongiorno. Vedete ovviamente che questo è il giorno dopo, di fuori piove a dirotto, io dovevo andare a fare la spesa ma so alle 8 e un quarto che vado ad aprire il cancello del supermercato, quindi ci vado forse tra un pochino. E niente, volevo chiudere questo vlog un po' meglio perché mi sono resa conto che è proprio stato un disastro, un no sense. Quindi niente, io vi saluto, penso che il prossimo video dopo questo vlog sia lo svuota la spesa perché se vado a fare la spesa stamattina per cose ovvie vi faccio lo svuota la spesa. Poi semmai invece inizierò un altro vlog, non lo so, poi vi devo pure raccontare una cosa che mi è successa con quelli delle poste perché mi hanno fatto veramente, cioè è la trentesima volta che succede una cosa del genere, io sono bestialita. Però va bene dai, torno a casa in questo momento. Grazie per aver visto questo video e iscrivetevi al canale. Bacio, ciao a tutti!